Ascoltami Pucci, tutti quanti a questo mondo hanno dei punti di forza e di debolezza che dipendono dalla loro natura. Come il più grande tra i re, anche un cuoco ha le sue abilità. In questo modo gli Stand trascendono il significato di potenza. D'altronde è questo che significa vivere.